ben ritrovati a tutti gli amici del pianeta ok a rotelle canale novantaseb ritrovati da Stefano Ballerini e Enrico Milano che mi segue in remoto da domani sarò in studio insieme a Paolo Caselli per cui rassegna stampa la mattina e speciali da regalarvi per tutto il periodo natalizio eh e un grazie allo stesso Paolo Caselli che mi segue in redazione allora andiamo a vedere quello che è successo nell'ultima settimana perché tra l'altro abbiamo tanti risultati da darvi dobbiamo forzatamente tornare anche indietro la settimana scorsa per fare il punto totale e raccontarvi cosa è successo nella giornata di ieri turno l'ultimo del duemila ventidue turno infrasettimanale prenatalizio allora nella giornata a dodici tanto per riannodare perché l'abbiamo data in tre puntate differenti perché si sono giocate in date differenti per gli impegni di Coppa che poi andremo a vedere Lodi batte Bercelli cinque a due mh Fortele Marmi Sazzana quattro sei Valdagno Sandrigo due tre Bassano Follonica due quattro fu un bel risultato per il Follonica in quel di Bassano bene anche il Grosseto che batte il Montebello tre a uno Monza precalcino cinque quattro Trissino Viareggio nel posticipo del diciotto nove a tre e vediamo quello che è successo ieri dunque andiamo a vedere anche con l'aiuto ovviamente di Fisle punto it che ci dà ovviamente tutti i raguagli e tutte le eh i punteggi dei delle varie partite allora andiamo con ehm dunque questo è il turno precedente andiamo a vedere il turno di ieri sera dobbiamo andare a fare il punto della situazione allora allora torniamo indietro perché il sito della federazione allora dovrebbe essere questo andiamo a vedere se dico bene allora eccoci qua Sarzanatrissino due otto due cinque zero tre i due tempi Follonica Grosseto il derby attesissimo in terra di Maremma in quel di Follonica finisce due a due due a uno al primo tempo Follonica uno a zero la ripresa Grosseto centro giovani calciatori che purtroppo mi perde sulla pista di Viareggio contro il Valdagno di un sol gol quattro cinque equilibrio nel primo tre tre poi vantaggio ospite nella seconda parte di gara due uno finale quattro cinque Vercelli Bassano finisce a sorpresa quattro a quattro quattro due zero due Montebello Monza cinque quattro tre uno due tre un tempo a testa Sandrigo Lodi uno tre come dalle più ampie previsioni zero due uno uno Montecchio precalcino questo è un risultataccio brutto brutto che batte i GDS in Pianti Versilio a Forte dei Marmi tre a due due a due e uno zero e allora per via di questi risultato la classifica fine duemilaventidue prima di Natale Capodanno vede Trissino svoltare lassù a trentasei punti Lodi secondo insieme al Grosseto ventisei per entrambi ventitré il Bassano Sarzana ventitré insieme al Bassano Follonica ventidue Versilio a Forte dei Marmi che ha perso qualche partita di troppo ventuno ottavo posto se il campionato fosse finito ieri l'ottavo posto significherebbe virtuali playoff ma ovviamente c'è tutto il duemilaventitré Vercelli a quota diciotto poi Monza e Valdagno quattordici Sandrigo dodici centro giovani calciatori che ricordo è squadra neopromossa nove Montecchio per il calcino che si rifà sotto otto Montebello sette andiamo ad aggiornarvi anche la classifica dei marcatori con Cocco del Trissino venti Mendes del Trissino diciotto poi troveremo anche Malagoli del Trissino in mezzo c'è Tamborindeghi del Monza a 17 gol Marco Svega Montecchio e appunto Malagoli Trissino Trissino davvero 38 48 54 reti in due pensate in tre pensate il super attacco di Trissino poi Ortiz Sarzana De Oro Grosseto e Davide Banini Follonica svoltano con quattordici reti l'appuntamento prossimo quattordicesima giornata prima del girone di ritorno si torna in pista il giorno dopo la Befana sabato sette gennaio tutti alle ore venti e quarantacinque il programma prevederà Monza Versina Forte dei Marmi Montebello Follonica Vercelli Grosseto Sandrigo Bassano Biareggio una partita no match improba contro i Lodi Sarzana Valdagno e Montecchio Precacino Trissino la Coppa Italia dunque vede la giudicazione e la composizione della griglia dei quarti di finale gara unica mercoledì 11 gennaio Trissino Vercelli Lodi impianti versina Forte dei Marmi mercoledì 11 gennaio tutte poi Grosseto Follonica ritroviamo il derby sarà un tutto esaurito molto più che probabile un broker Bassano gamma innovation innovation Sarzana per cui questo è il punto del nostro della nostra informazione allora andiamo anche a vedere gli impegni delle squadre che giocavano la settimana scorsa in Coppa allora il capitolo europeo sorride per il GDS impianti versina Forte dei Marmi e amatori Woske Lodi la squadra rossolù toscana si è classificata seconda nel suo girone sconfitto dal Noia 3 a 1 nella gara ultima giocata l'amatore Lodi è riuscita invece a superare i padroni casa delle Ringen per 4-2 qualificandosi anch'essa seconda dietro i portoghesi del Valongo sconfitta invece meno 3-7-4 per Grosseto contro i portoghesi delle Oliverense che la fanno classificare terza nel girone come il Galileo Follonica che è riuscita a piegare gli spagnoli del Kaldesh 5-4 per il Valdagno buona prova contro i quotati portoghesi del Barcellos per 2-1 ma non basta per togliersi dall'ultima posizione del girone tecnicamente più difficile sia Valdagno ma anche Grosseto e Follonica saranno di scena nella WSE Cup che andranno a sommarsi all'Ubroker Bassano che ha battuto i francesi del Dinan Quiver per 4-1 classificandosi come miglior seconda dei gironi niente da fare purtroppo per Lengas Vercedi che dopo il pareggio contro i francesi del Noisilera non è riuscita a piegare i catalani dell'Eida perdendo 5-2 quindi in Champions League giocheranno nel 2023 Trissino, Sanzana, Forte Marmi e Lodi mentre in WSE Cup Follonica, Grosseto, Valdagno e Bassano si ripartirà da fine gennaio con la fase a gruppi e gli ottavi per la WSE Cup mentre il sorteggio avverrà tra una decina di giorni. Torniamo in Italia la finale di Coppa Italia di Serie B è stata designata sarà Amatori Vercelli contro Pumas, Ancora, Biareggio, i piemontesi hanno pareggiato 4-4 con il Pico mentre i toscani si sono confermati anche in terra veneta andando a vincere 6-2 contro Roller Bassano. La finale si gioca sabato 25 marzo prima delle due semifinali di Coppa Italia 2 dove ancora la sede sarà decisa dopo i quarti di finale. Per cui questo è il nostro appuntamento infrasettimanale il capitolo occhi a rotelle va in letargo fino al 7 di gennaio vedremo se riusciremo in questi giorni pre natalizie pre fine d'anno a realizzare qualche speciale coinvolgendo amici addetti stampa per fare il punto della situazione magari proprio per focalizzare l'attenzione sul rendimento delle nostre quattro squadre toscane. Ringrazio Enrico Milano che mi segue da remoto, ringrazio la FIS che ci ha comunicato e ne siamo lieti e ringrazio che possiamo prendere dai siti tutto quello che noi vogliamo siamo state catalogate anche noi di canale 96 di Tele Firenze Viola Supresport come una delle televisioni nazionali che si occupa compiutamente di occhi a rotelle per cui ne siamo felici hanno preso informazioni ci hanno rilasciato tutte le autorizzazioni ci facilitano così assolutamente il lavoro durante il periodo natalizio manderemo una quantità inverosimile di partite di occhi a rotelle focalizzando ovviamente andando a trarre le sintesi e le registrazioni soprattutto delle nostre quattro squadre toscane è tutto buon Natale ci risentiamo sicuramente prima di Capodanno eventualmente qualcuno non ci segua inoltre gli auguri per la miglior fine d'anno duemila ventidue possibile e ne abbiamo ben donde miglior inizio possibile duemila ventitré lo vogliamo fortissimamente tutti l'appuntamento rimarrà per i primi di gennaio ma comunque vedrete tante belle cose durante il periodo natalizio da Stefano Ballerini Enrico Minano Paolo Caselli del canale 96 solo e solamente di Tele Firenze Viola Supresport è tutto la linea torna alla regia viva l'hockey a rotelle e adesso ci devi mettere i giorni e inizio alla per la magia per la magia e si vuoi